Buongiorno e benvenuti a questa lezione. Sono Gianluca Giorgi, un chimico organico dell'Università di Siena. Lavoro presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, uno dei dipartimenti di eccellenza nazionale e da chimico organico mi occupo del studio delle molecole organiche, ovvero di quelle molecole che contengono atomi di carbonio e in particolare svolgo la mia attività occupandomi della caratterizzazione strutturale di determinare la struttura di queste molecole, le loro proprietà, le loro reattività e utilizzo molteplici metodologie. Tra queste la spettometria di massa, che è appunto l'argomento della lezione di oggi, riveste un ruolo quanto mai importante. Ho deciso di parlarvi di spettometria di massa per vari motivi. Intanto è una tecnologia che è in grandissima espansione e diffusa in molti ambiti. Molti giovani che ci stanno seguendo, se andranno a lavorare in un laboratorio di analisi chimiche, in un laboratorio di analisi alimentare, analisi ambientale, in un ente di controllo nazionale, in un'azienda farmaceutica, in un'azienda chimica, in ambito biotecnologico, se si occuperanno di proteomica, di lipidomica, di metabolomica, andranno a avere a che fare sicuramente con la spettometria di massa. Attualmente la formazione su questa tecnologia è abbastanza limitata, sia nelle scuole superiori, sia a livello universitario, per cui diciamo utilizzo questa occasione per darvi un primo approccio alla spettometria di massa. Avete mai sentito parlare di spettometria di massa? Forse direttamente no, ma indirettamente ne avete sicuramente a volta a che fare, siete venuti in contatto in più occasioni. Per i nuovi nati il contatto con la spettometria di massa nasce, si instaura fin dalla nascita. Infatti, diciamo, ai bambini appena nati viene prelevata una goccia di sangue, la quale viene messa su una carta bibula, la vedete qua riportata, e in Italia, diciamo, fino a qualche anno fa venivano fatto uno screening per tre malattie obbligatorie. In Toscana, invece, con la legge regionale del 2004, questo screening è stato esteso fin dal 2004, quindi chi di voi è nato in Toscana dal 2004 in poi ha avuto questo tipo di analisi sulla sua goccia di sangue che gli è stata prelevata pochi giorni dopo la nascita, e quindi in Toscana si è allargato questo screening andando a monitorare più di una ventina di malattie. E quindi il primo contatto con la spettometria di massa inizia fin dalla nascita. E poi noi ovviamente c'è una legge regionale nel 2016, una legge nazionale scusate nel 2016, che estende questo screening allargato a tutte le regioni italiane, per cui adesso tutti i nati in Italia avranno questo screening neonatale allargato utilizzando la spettometria di massa come tecnologia. Tutti noi respiriamo, tutti noi ovviamente quindi respiriamo aria, chi controlla la qualità dell'aria, chi diciamo in che modo vengono determinati la presenza di inquinanti, quali per esempio di ossine, PCB, FAS, BOC, eccetera, tutti questi vengono determinati con la spettometria di massa. Quindi diciamo molti metodi, perché vanno ad identificare, a cercare, a quantificare la presenza di eventuali contaminanti nell'aria, ma non solo, anche nell'acqua, anche nei terreni, utilizzano metodi di spettometria di massa. Tutti noi mangiamo, quindi alimenti di vario tipo, beviamo, utilizziamo olio, vino, eccetera, e la spettometria di massa svolge un ruolo molto importante nello studio degli alimenti, sia per quanto riguarda la loro composizione, sia per quanto riguarda la sicurezza alimentare, qua vedete un libro proprio dedicato alla spettometria di massa nella sicurezza alimentare, e poi anche la spettometria di massa svolge un ruolo importante nella fudomica, cioè una nuova scienza, una delle scienze omiche in cui diciamo che si occupa sia della scienza degli alimenti che appunto della nutrizione. Quindi anche in questo ambito la spettometria di massa svolge un ruolo molto importante. Non solo, ma le analisi antidoping, molti di voi si occuperanno di sport, sentite spesso parlare di analisi antidoping, moltissime analisi antidoping, vengono effettuate utilizzando metodologie di spettometria di massa. La spettometria di massa è entrata anche a livello degli ospedali, quindi alcune analisi cliniche sono fatte utilizzando metodi di spettometria di massa, e non solo nei laboratori ospedalieri, ma anche nelle sale operatorie, tant'è che all'Imperial College di Londra appunto è stato messo a punto una bistur intelligente, un intelligent knife che appunto dice al chirurgo se nel momento in cui sta tagliando, sta tagliando un tessuto tumorale o un tessuto sano. E quindi nel caso di tessuto tumorale deve continuare l'asportazione del tessuto, nel caso di tessuto sano deve ovviamente fermarsi. Nella spettometria di massa ha moltissime applicazioni nelle scienze omiche, e quindi noi abbiamo già visto la fudomica, ma la proteomica sicuramente, la lipidomica, la metabolomica, la petroleomica, tutti i vari componenti del petrolio, delle benzine, sono studiate e caratterizzati con la spettometria di massa, la fudomica l'abbiamo visto prima, e poi anche in tutte le altre scienze omiche che non sono qui riportate. C'è anche un ambito in cui la spettometria di massa trova molteplici applicazioni, e questo è l'ambito dei beni culturali e anche in archeologia. Infatti, diciamo, l'archeologo o lo studioso di storia dell'arte osserva un dipinto, guarda un manufatto, una ceramica, eccetera, e, diciamo, è interessato anche a sapere come, che colori, per esempio, che pigmenti sono stati usati per un certo dipinto, o che cosa ha contenuto una certa ceramica, chissà, magari mille anni fa, in tempo medievale. Con la spettometria di massa è possibile ottenere anche questo tipo di informazioni. Bene, in tutte le puntate di serial, polizieschi, eccetera, CSI e moltissimi altri, è presente sempre fare uno spettometro di massa nel laboratorio, che in quel caso risolve in quasi per magia tutti i problemi. Nella realtà non è proprio così, ma siamo abbastanza vicini a questo. E in Italia abbiamo molte, diciamo, enti che utilizzano la spettometria di massa per le loro inchieste, per le loro investigazioni, i NAS, i ROS, l'Istituto delle Dogane, i Vigili del Fuoco, per andare a determinare la presenza di stupefacenti, di veleni, nel caso per esempio di sospetti avvelenamenti, di esplosivi, di armi chimiche, di contraffazione. E quindi anche qui è tutto un ambito dove, molto vasto, dove la spettometria di massa riveste un ruolo molto importante. E non solo in ambito investigativo, ma anche in ambito forense, dove la spettometria di massa viene usata in molti ambiti, per esempio in questo caso è un'applicazione abbastanza innovativa, in cui si va a determinare l'impronta digitale basandosi sulle molecole presenti sul polpastrello. E quindi, non solo si va a studiare la geometria della impronta digitale, ma si va anche a rivelare l'eventuale presenza di sostanze non consentite, come per esempio in questo caso la cocaina e dei suoi metaboliti. Vi sarà capitato o vi capiterà di andare per esempio in un aeroporto e al controllo bagagli, al controllo delle persone, avete qualcuno che è un poliziotto che vi si avvicina, struscia uno straccetto sul vostro borsa o sul vostro computer e lo inserisce all'interno di uno strumento come per esempio questo, e questo non è nient'altro che uno spettometro di massa. E in tempo reale, quindi in tempo di pochissimi secondi, va a monitorare l'eventuale presenza di esplosivi, quindi TNT, RDX, eccetera, e anche l'eventuale presenza di stupefacenti, cocaina, eroina, anfetamina, in tempi estremamente ridotti. C'è poi da dire che la spettometria di massa, come avete visto anche nel titolo, non è solo, non si usa solo sulla Terra, ma già dal 1975 la missione Viking, che consisteva appunto nel mandare un lander su Marte, aveva uno spettometro di massa e qui lo vedete in figura, il quale determinò già nel 75 l'atmosfera di Marte, come visualizzato in questo spettro di massa, a cui si vide, diciamo, un'ulteriore evidenza, in cui su Marte, come vedete, la quantità di ossigeno è 0,1, sulla Terra è circa il 21%, mentre su Marte la nitride carbonica è circa il 95% e sulla Terra è 0,03. Bene, allora avviciniamoci un po' più, diciamo, alla spettometria di massa e iniziamo a dire che la spettometria di massa ha circa un secolo di vita. Il suo inizio si ascrive agli esperimenti di Joseph John Thompson, J.J. Thompson, Nobel, premio Nobel per la fisica nel 1906. Lui era un fisico britannico ed è quello che ha scoperto gli elettroni. Nel corso dei suoi studi, J.J. Thompson mise a punto anche il primo spettometro di massa. Primo spettometro di massa che a quel tempo, e fino a metà, diciamo, degli anni 90 circa, non consentiva di poter studiare le molecole. Le molecole erano entità troppo grandi, ma la spettometria di massa nasce nella fisica per studiare gli atomi, e in particolare i vari isotopi che compongono gli atomi. Vi ricordo che gli isotopi sono atomi della stessa specie, con lo stesso numero atomico, quindi hanno lo stesso numero di protoni, lo stesso numero di elettroni, quindi gli isotopi si comportano esattamente nello stesso modo. Quello che hanno di diverso è un numero, il numero di massa, ovvero sia differiscono per la presenza di neutroni. E qui vedete, per esempio, gli isotopi dello zinco, a sinistra, gli isotopi del cadmio, a destra. E questa, diciamo, era l'ambito della spettometria di massa fino a circa metà degli anni 90. Dopodiché dagli atomi si passa alle piccole molecole, quindi si passa allo studio del metano, delle molecole volatili, degli idrocarburi presenti, per esempio, nel petrolio. L'industria petrolifera ebbe un ruolo importante nello sviluppo della spettometria di massa, per poi arrivare a metà degli anni 80, dove non ci sono più limiti, per cui qualunque molecola di qualunque grandezza, di qualunque dimensione e peso, può essere caratterizzata. E qua avete uno spettro, dove appunto è uno spettro di massa, dove vi porta questa proteina, che ha un peso molecolare di 1.020.000 d'alton. Quindi oggi si possono studiare qualunque tutte le molecole che vogliamo, da quelle piccole a quelle grandi a quelle molto grandi. La spettometria di massa, il professor McLaughlin, uno dei fondatori della spettometria di massa, molti anni fa disse che molte proprietà della spettometria di massa cominciano per S, e in realtà tre S sono presenti nel nome spettometria di massa. Sicuramente la specificità e la selettività sono due proprietà molto importanti per la spettometria di massa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una molecola produce uno spettro di massa e che uno spettro di massa è prodotto da una sola molecola, ovvero si abbia una stretta relazione tra molecola, tra la sua struttura e lo spettro di massa che produce. Molecole diverse, che hanno per esempio lo stesso peso molecolare ma struttura diversa, produrranno spettri di massa diversi. La stessa molecola, nelle stesse condizioni sperimentali, produrrà sempre lo stesso spettro di massa. E quindi questo è molto importante perché abbiamo un'estrema selettività e quindi identifichiamo, questo ci permette di identificare la molecola che ha prodotto quello spettro di massa. A queste due proprietà se ne affianca una terza estremamente importante, che è appunto la sensibilità. La spettrometria di massa è una metodologia estremamente sensibile. Non solo concentrazioni nanomolari, 10 a meno 9 molare, ma anche concentrazioni picomolari, concentrazioni attomolari, concentrazioni fentomolari. Quindi siamo a concentrazioni, come vedete, estremamente basse, 10 a meno 15, 10 a meno 18 molare, quindi una sensibilità estremamente elevata. Allora se combiniamo insieme sensibilità e selettività, questo ci porta a poter utilizzare la spettrometria di massa nello studio di molecole presenti in tracce, in quantità estremamente basse, con una notevole specificità. Oltre a queste c'è un'altra proprietà che però inizia in E per S solo nella lingua inglese, che è appunto la velocità speed. Quanto pensate che ci voglia per fare uno spettro di massa? Minuti? Secondi? Sicuramente molto meno. Per fare uno spettro di massa ci vogliono circa 50-100 millisecondi, quindi in un secondo facciamo molti, molti, molti spettri di massa. Quindi è una metodologia estremamente veloce. C'è poi un'altra S che riguarda appunto la stechiometria, questa è una proprietà solo di alcuni spettrometri di massa, cioè determinare la stechiometria significa appunto determinare la formula bruta. Quindi io posso determinare non solo il peso molecolare della mia molecola, ma posso determinare anche la formula bruta, quindi determinare quanti carboni, quanti idrogeni, quanti ossigeni, quanti azoti contiene. C'è poi un'altra S che è quella un po' più, diciamo, dolente, che riguarda appunto il costo. Quando all'inizio degli anni 90 ho iniziato a fare lezioni di spettrometria di massa, questa S occupava tutto lo schermo praticamente. Voi pensate che negli anni che abbiamo acquistato all'Università di Siena il primo spettrometro di massa nel 1990, fu pagato per quel tempo 550 milioni di lire più IVA, quindi se ci pensate è una cifra estremamente elevata. In quel tempo, nel 1990, in Toscana c'era il numero di spettrometri di massa presenti in tutta la regione e si contavano sulle dita di una mano. Adesso, solo in Toscana, gli spettrometri di massa sono molte, molte centinaia, se non qualche migliaio, quindi c'è stata un'ampissima diffusione. Ovviamente l'ampissima diffusione porta a una riduzione dei costi, per cui oggi, diciamo, comprare uno spettrometro di massa richiede un investimento di circa dai 30-40 mila euro fino a milioni di euro, dipende dalle prestazioni dello spettrometro di massa che vogliamo comprare. Ma il costo non è un problema, perché se questo spettrometro di massa lavora, diciamo, a ritmi dovuti, il costo iniziale viene facilmente ammortizzato nel giro di pochi anni. Ci sono ancora altre due proprietà che mi piace presentarvi. Non iniziano per S, ma una è la versatilità, che vuol dire che con lo stesso spettrometro di massa io posso caratterizzare, posso studiare, diversi composti, composti diversi. Quindi non devo comprare uno spettrometro di massa per caratterizzare, non so, il benzene o un altro spettrometro di massa per caratterizzare il metano, ma con lo stesso spettrometro di massa posso caratterizzare ampie classi di composti diversi, quindi estremamente versatile. E un aspetto in cui in questi anni si sta molto lavorando è anche quello della miniaturizzazione, cioè fare strumenti sempre più piccoli. Quello che vedete qui in figura è appunto un strumento che potrebbe essere assimilabile a un vostro zainetto se non più piccolo e con questo strumento si va direttamente a fare la misura laddove è richiesto, senza dover trasportare il campione, senza dover avere tempi di trasporto e di manipolazione del campione, ma fare l'analisi direttamente on-site, quindi in situ, dove appunto l'analisi debba essere fatta. Cosa si può fare con la moderna spettrometria di massa? E qui è un po' una rassegna di quelle che sono le informazioni che possiamo ottenere con la spettrometria di massa ad oggi. Intanto abbiamo visto il peso molecolare, che è una informazione. Con la spettrometria di massa in alta risoluzione possiamo determinare la stechiometria, la formula bruta, quindi non solo dire la mia molecola pesa 200, ma contiene tot carboni, tot idrogeni, tot ossigeni, tot numero di azoti. Ovviamente il peso molecolare non è un'informazione selettiva e specifica, ma devo determinare la struttura, allora ecco che la spettrometria di massa tandem è quella appunto che si occupa di determinare la struttura, che mi permette di determinare la struttura della mia molecola. E poi abbiamo ancora, diciamo, la spettroscopia ionica, che è una branca della spettrometria di massa, che consiste nel poter effettuare uno spettro infrarosso dell'ione che sto studiando, e quindi aumento il numero di informazioni strutturali. Posso anche determinare la forma della mia molecola, quindi non solo quanto pesa, qual è la sua struttura, ma se ha una forma ripiegata, una forma globulare o una forma più allungata, per esempio. E questo viene fatto con la mobilità ionica. E poi posso anche fare una mappatura molecolare, diciamo, dei miei analiti. Cioè posso prendere, per esempio, una fetta di tessuto, una sezione di tessuto, andare a studiare le molecole contenute in quel tessuto, per esempio di fegato, di cervello, di quello che vogliamo, e determinare non solo le molecole, ma anche dove queste molecole sono localizzate nel tessuto stesso. Di questi argomenti, diciamo, alcuni di questi argomenti li vedremo un po' più in dettaglio nella seconda lezione. Bene, allora il primo punto importante, che è comune a tutti nelle metodologie di spetterometria di massa, è questo. La spetterometria di massa studia ioni in fase gassosa. Noi generalmente abbiamo a che fare con molecole, quindi sintetizziamo molecole, abbiamo a che fare con molecole, molte sostanze naturali sono in forma neutra, quindi sono molecole, la spetterometria di massa studia gli ioni. Quindi il primo evento che deve accadere all'interno di uno spettometro di massa è trasformare la molecola in ione. Quindi devo ionizzare la mia molecola. Vedrete che questo non è assolutamente un problema, e tra breve vi farò vedere come questo può essere fatto. Quindi noi abbiamo a che fare con degli ioni. Questi ioni non sono in soluzione, non sono allo stato solido, ma sono in fase gassosa, quindi non interagiscono praticamente con chi gli sta accanto. Come può avvenire, per esempio, in forze interazioni come possono esserci in soluzioni, o forze reticolari come possono esserci nello stato solido, in fase gassosa lo ione, diciamo, non interagisce con niente praticamente. E possiamo studiare, come abbiamo visto all'inizio, un po' tutti gli ioni, sia gli ioni piccoli, sia gli ioni grandi, che giganteschi, o gli ioni elefante, come poi vedremo. Allora, diciamo, cerchiamo di capire ancora un pochino meglio cosa vuol dire questo, cioè la spetterometria di massa studia gli ioni in fase gassosa. Intanto, che cos'è un ione? Molti di voi lo sapranno, ma diciamo, lo diciamo un po' per tutti, un ione può essere un atomo, o una molecola, che ha una carica. Esempi di atomi, Na+, sodio positivo, oppure il protone, H+, oppure Cl-, il cloruro. Questi sono tutte particelle atomiche, sono atomi con una carica positiva o negativa. ma possiamo anche, appunto, avere molecole con una carica. Possiamo avere un metano positivo, possiamo avere un benzene positivo, possiamo avere una proteina, o un frammento di DNA, o di RNA, o un qualsiasi metabolita, o una qualsiasi altra molecola, in forma di ione. Come abbiamo visto, gli ioni possono essere positivi o negativi. la spettometria di massa può studiarli entrambi, sia positivi, sia negativi. Perché la spettometria di massa studia gli ioni? Qual è il vantaggio di studiare gli ioni rispetto a studiare le molecole? C'è un vantaggio importante, dato appunto dalla carica. e se io ho uno ione positivo e accanto lo faccio interagire con un potenziale positivo, questo ione verrà respinto. Perché le cariche dello stesso segno, ovviamente, si respingono. Se invece accanto metto un potenziale negativo, questo ione verrà attratto. Quindi gli ioni risentono di un campo elettrico. Non solo. Risentono anche di un campo magnetico e risentono anche di una terza forza, che forse non conoscete, che è appunto una radiofrequenza. Quindi, tutte le volte che io ho a che fare con degli ioni, voglio fargli curvare, accelerare, decelerare, fargli cambiare traiettoria, eccetera, posso usare una, due o tre di queste forze. E quindi, in qualunque spettrometro di massa, io avrò una, due o tre di queste forze. Ci saranno alcuni spettrometri di massa che hanno solo un campo elettrico, altri che hanno un campo elettrico e una radiofrequenza, altri che hanno un campo magnetico e un campo elettrico, altri che le hanno tutte e tre. Queste sono le tre forze che influenzano il movimento di un ione e che sono utilizzate nella spettrometria di massa. Quali ioni è possibile studiare? L'abbiamo già detto. Qualsiasi, quindi dagli atomi alle molecole, alle molecole organiche, inorganiche, piccole, grandi, grandissime. Non ci sono praticamente limiti. Come vengono prodotti gli ioni? Abbiamo detto, noi partiamo quasi sempre da molecole, per cui appena introdotta la nostra molecola all'interno dello spettrometro di massa deve avvenire appunto una ionizzazione, quindi la trasformazione della molecola in ioni. Questi è possibile studiare gli ioni con lo spettrometro di massa, che è lo strumento che utilizziamo per fare appunto spettrometria di massa. E tenete importante a mente questo punto, quale informazione posso ottenere? Posso ottenere due tipi di informazione. Un'informazione qualitativa. Io posso identificare la mia molecola, determinare il peso, determinare la formula bruta, determinare la struttura, determinare la sua forma, e quindi fare un'analisi qualitativa, ma io posso anche fare un'analisi quantitativa, quindi determinare la quantità di una certa molecola in un certo substrato. Tenete conto, analisi qualitativa e quantitativa, con le famose esse, con grande specificità e con grande sensibilità, come abbiamo visto poc'anzi. Bene, allora abbassiamo sempre di più il nostro livello, per addentrarci sempre più all'interno della spettrometria di massa. Quindi io posso studiare, come abbiamo detto, qualunque molecola, quindi posso studiare dei farmaci, posso studiare peptidi, posso studiare metaboliti, posso studiare qualunque, diciamo, molecola io voglia, delle proteine, eccetera, eccetera, e ovviamente sono interessato a identificare la mia molecola. Quindi la prima domanda che mi pongo è chi sei? E la spettrometria di massa mi permette di rispondere a questa domanda fornendomi due informazioni importanti e permettendomi di rispondere a due importanti domande. La prima, qual è il tuo peso molecolare? Quanto pesi? Bene, il peso molecolare può essere un'informazione specifica e selettiva? Sicuramente no. Noi abbiamo decine di migliaia di molecole, centinaia di migliaia di molecole, che hanno lo stesso peso molecolare. Quindi il peso molecolare è una informazione che io posso ottenere dalla spettrometria di massa. Ovviamente non è la sola. La seconda informazione importante che la spettrometria di massa mi fornisce è un'informazione strutturale, quindi mi permette di determinare la struttura della mia molecola. Una volta che ho identificato la mia molecola, posso, diciamo, determinarne la quantità, quindi fare l'analisi quantitativa. Quindi analisi qualitativa, identificare la molecola, determinare il peso molecolare, determinare la sua formula bruta, determinare la sua struttura, determinare la sua forma, determinare eventualmente la sua reattività, come reagisce, in che modo reagisce, e determinare anche la sua quantità. Come è fatto uno spettrometro di massa? Uno spettrometro di massa è composto da diverse parti. La prima parte è sicuramente il sistema di introduzione, quindi io devo introdurre la mia sostanza all'interno dello spettrometro di massa e questo posso farlo in vari modi, introdurla direttamente o attraverso un sistema cromatografico, per esempio, come un gas cromatografo o un cromatografo liquido. La prima parte, diciamo, importante dello spettrometro è appunto la sorgente, quindi all'interno della sorgente avviene appunto la ionizzazione, quindi la trasformazione della molecola in ione. Come posso trasformare una molecola in ione? Ci sono vari modi e questi modi utilizzati in spettrometria di massa cerco di riassumerli adesso. Per le molecole volatili, quindi le molecole che facilmente vanno in fase gassosa, quindi le molecole apolari, le molecole che non hanno gruppi acidi, le molecole che non hanno gruppi basici, per esempio gli idrocarburi, possono interagire con un fascio di elettroni, lo vedete qui. E da questa interazione, questo fascio di elettroni che passa vicino alle molecole in fase gassosa, rimuove dalla molecola un elettrone. E quindi abbiamo la formazione, lo vedete qua, di un catione. Un catione è positivo perché si è stato rimosso un elettrone, quindi abbiamo rimosso un elettrone abbiamo rimosso un elettrone che ha carica negativa, quindi si forma un catione, e la molecola per definizione ha numero di elettroni pari, se ne rimuovo uno ottengo un numero di elettroni dispari, quindi ottengo un radicale. Un altro modo di ionizzare una molecola è quello di andare ad aggiungere un protone, quindi di formare una molecola protonata. Questo può essere fatto facendo interagire la nostra molecola con un gas, come avviene nella ionizzazione chimica, oppure con un campo elettrico, con una scarica corona o con dei fotoni, come avviene nel maldi. Questo per formare gli ioni positivi, ma io posso anche deprotonare la nostra molecola, rimuovere un protone, e quindi formerò uno ione negativo. C'è poi una tecnica di ionizzazione, che è l'elettrospray, che se la molecola è sufficientemente grande, va ad aggiungere non solo un protone, ma ne aggiunge 5, 10, 50, 100, e quindi forma degli ioni multicarica. Come forma ioni positivi, può formare anche ioni negativi, quindi andando a deprotonare la nostra molecola, e quindi formando degli ioni multicarica negativi. Bene, con questa veloce panoramica sulla spettometria di massa, direi che possiamo concludere questa... questa... ah no, abbiamo ancora, scusate, il vedere, finire di vedere lo strumento. Dopo la sorgente c'è l'analizzatore, quindi gli ioni formati in sorgente vengono accelerati verso l'analizzatore, il quale va a separare gli ioni secondo il loro rapporto massa-succarica, e questo lo vedremo nella prossima lezione, e poi dall'analizzatore i nostri ioni andranno al rivelatore per formare, appunto, alla fine, poter ottenere lo spettro di massa. Direi che abbiamo terminato qui questa prima lezione, e vorrei concluderla con questa frase di John Fenn, premio Nobel per la chimica nel 2002, lo vedremo che ha messo a punto una tecnica di ionizzazione, l'elettrospray. La frase dice la spettrometria di massa è l'arte di pensare atomi e molecole per misurarne la massa. Tale informazione, a volte sufficiente, frequentemente necessaria, è sempre utile per determinare l'identità di una specie. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, e nella prossima lezione vedremo un po' più approfonditamente altri aspetti dell'aspettrometria di massa. Buona serata.